Luca Mazzitelli Allora, era una partita che in effetti per la classifica né per l'Aternan né per il Brescia diceva molto però per voi giovani credo che sia sempre una bella vetrina per mettersi in mostra soprattutto quando si gioca con tranquillità, no? Certo, ogni partita bisogna farla al massimo perché sappiamo che ogni volta che va in campo c'è gente che ti guarda e quindi devi dare il massimo sia per la maglia che per rispettare tutti i tifosi anche il piccolo numero che viene qua a vederti quindi per rispetto di tutti devi sempre do il massimo è sempre una partita di campionato anche se non valgono i punti comunque fa sempre piacere vincere oggi non ci siamo riusciti quindi ci dispiace un po' però siamo contenti della stagione che abbiamo fatto a parte queste ultime partite Senti, diciamo, il rammario della giornata però è chiaramente il passare in vantaggio e non riuscire poi a tenerlo Sì, perché secondo me i primi 20 minuti abbiamo fatto benissimo facciamo girare bene la palla abbiamo dato subito il gol poi dopo la Ternana ci è venuto a prendere un po' più alti hanno fatto due gol uno dopo l'altro ci hanno preso un po' così poi stavamo facendo il 2-2 abbiamo sbagliato l'occasione sull'altra fronte ci hanno fatto il 3-1 quindi il volo è un po' complicato Senti, grossa personalità grande palleggio si vedono le tue qualità e noi abbiamo sentito che ti ha messo gli occhi addosso già il sassuolo che cosa c'è di vero? solo gli occhi o qualcosa di più concreto? no, in realtà mi ha comprato il sassuolo a gennaio già quindi la prossima stagione penso di andare da loro come è stata questa stagione con il Brescia? è una squadra con grandi tradizioni una società con grandi tradizioni quindi quando non c'è nulla da chiedere più che la salvezza insomma si rimane sempre delusi? no, penso che il Brescia in Serie B sia una della squadra forse più blasonata che c'è è come giocare al Milan in Serie A perché è una storia incredibile sono passati qua dei giocatori grandissimi quindi ogni volta che metti questa maglietta è un'emozione grandissima io sono molto contento di aver fatto questa stagione qua che mi ha aiutato molto a crescere infatti devo dire grazie a questa società grazie grazie mille